Ecco, tempo di preghiera, di riflessione, di ascolto questa Quaresima ed è bene che ce lo diciamo subito perché i tempi camminano in fretta, non dico che siamo già a metà ma siamo già abbastanza avanti nel cammino quaresimale, è bene quindi che ciascuno dica ma ho fatto il primo passo, almeno sto prendendo sul serio la Quaresima, anche perché prendere sul serio la Quaresima è un modo di prendere sul serio non solo Dio ma di prendere sul serio noi stessi. La Chiesa ha inventato questi 40 giorni e ce li offre perché siano un tempo di umanità, siano un'occasione in cui confrontandoci con quell'uomo Cristo Gesù abbiamo un po' a capire che cosa vale della nostra umanità, che cosa tiene, qual è il senso del nostro vivere e quindi entran dentro il tempo della preghiera e il dialogo con Dio, altronde anche la fede se non ha questo dialogo è come nella vita di una coppia, se due non si parlano o non si parlano più, chiaramente la relazione rischia di finire. È così anche la nostra fede, uno per tenerla viva deve dialogare e ascoltare il Signore, ecco l'ascolto della parola di Dio, parola di Dio che poi è quella che ci mette un po' a fuoco le cose della vita, ci dice che cosa conta, cosa non conta, se stiamo andando fuori sentiero o se siamo nel sentiero della vera vita, quindi è per la nostra pace, per la nostra speranza e anche il digiuno, molte volte l'abbiamo detto il digiuno, non si tratta tanto di fare dei gesti esterni o formali, tolgo qualcosa di qui, meno caramelle, meno sigarette, sì, quello che conta è dire ma ci sono cose della vita che pure sono anche belle magari, ma che rischiano di invadere la vita, di travalicare il loro compito, il posto del lavoro, del denaro, il posto della televisione, del computer, del telefonino, rischiano di invadere la vita, allora la Chiesa dicendo guarda il digiuno, metti un po' di ordine, lascia che le cose riprendano il loro posto, dai magari un po' di posto a qualcosa d'altro che è essenziale e che magari hai messo un pochettino nell'angolo, come appunto la preghiera che è il respiro della vita, sei diventato un po' asmatico, ti vede un po' bianco perché non gira bene il sangue della tua vita spirituale e quindi anche della tua serenità e della tua pace. Don Mauro, tra l'altro in questi tempi qui nelle parrocchie, leggiamo anche attraverso i mezzi di comunicazione, occasioni che vengono offerte, tridui dei morti, quarantore, esercizi spirituali a ridosso, prima o all'inizio della quaresima, direi che veramente si stanno offrendo delle belle opportunità e credo che vadano un po' tutte ricondotte pur arrivando da modalità diverse a questi motivi chiave della quaresima che sono un po' la riscoperta di Dio, ma in fondo in Lui la riscoperta di noi stessi. Le note che hai ricordato, Don Leone, sono proprio le note essenziali di questi 40 giorni. A me piace guardare e vivere la quaresima davvero come una palestra di ricreazione, cioè una palestra non dove si gioca, ma dove in questi 40 giorni uno riesce pian piano a scoprire la propria origine, la propria creaturalità, il fatto che siamo creature, bellissimo il gesto dalle ceneri che ha aperto il portone di questi 40 giorni, fatto appunto dall'essere poca cosa ma accarezzata da Dio, la cenere, la terra, la polvere accarezzata da Dio, lo sentiremo nella prima lettura della grande veglia pasquale, la poca terra nella quale poi Dio mette il suo soffio di vita. Ecco, questi 40 giorni attraverso la preghiera, attraverso il digiuno, attraverso la penitenza, attraverso le opere di carità, occasione d'oro per ricrearci o meglio per lasciarci ricreare da Dio. La vita tante volte è talmente ingolfata di cose, tante volte siamo talmente di corsa che davvero facciamo fatica a dare il giusto posto alle giuste cose, il giusto posto alle persone, il giusto posto ai valori. La quaresima ci aiuta, a me piace davvero tanto questo tempo, perché ci aiuta a fare un po' di ordine, a rimettere in ordine la casa, a rimettere in ordine il cuore, a lasciarci ricreare da questo grande Dio e la quaresima serve fondamentalmente a questo. Nel momento in cui tu permetti al Signore di conoscerlo un po' di più nel suo cuore, nei suoi sentimenti, nei suoi occhi, anche se noi gli occhi di Dio non li vediamo, ma grazie a Gesù Cristo sì, noi riusciamo a ritrovare noi stessi e a trovare anche il giusto posto che noi abbiamo nel mondo, nella comunità e anche nel cuore del Signore. Mi sono permesso sul notiziario parocchiale di Torre, ho visto poi che l'ha ripreso anche l'eco all'inizio della quaresima questo articoletto, che ho intitolato Io abito fuori casa. Ho pensato anche alle persone che per tanti motivi abitano fuori casa o non hanno una casa o non hanno più una casa, tanti sono i motivi. Però pensavo proprio, ciascuno di noi rischia di abitare fuori casa. Noi usiamo un termine qualche volta di una persona quando gli diciamo sei fuori casa, abiti fuori casa, con la tua testa, con la tua coscienza, sei in giro per chissà quali sentieri. Ecco, mi pare quasi che la parola quaresimale convertiti, voglio un pochettino innanzitutto dire convertiti a te stesso, torna a casa, cerca il caldo delle mura domestiche, della tua abitazione personale, perché sei in giro dappertutto, sei un girovago che si perde un viandante che non ha più la bussola e rischi di non saper più dov'è casa tua e di non trovarti più a casa tua. Don Mauro, la caratteristica della quaresima è anche quella della carità, delle opere di carità. Credo che la prima carità, forse ci pensiamo di meno a questo, perché ci hanno insegnato che non bisogna guardare a se stessi, che bisogna essere egoisti. L'egoismo è un conto, ma c'è anche una carità verso se stessi, che probabilmente è anche il primo vero passo della vera carità cristiana. Ecco, te lo dicevo prima davvero Don Leone, io penso che uno dei grossi pericoli di oggi è di non capire più qual è il nostro vero posto, o meglio, respirando l'aria del mondo sappiamo che dobbiamo arrivare primi in tutte le cose, che i nostri ragazzi se non fanno un toddy goal mentre giocano non valgono niente, che quell'adolescente che magari scia deve portarsi a casa la coppa, altrimenti il Valnegote. Ecco, non intendo questi di posti, proprio il posto all'interno di un mondo riconciliato, no? Quante volte magari nella direzione spirituale, nelle confessioni, o magari anche nelle chiacchierate così, io mi sento dire, ma chi sono io? Ma quanto valgo? Se poi andiamo nell'ambito della fede, quante volte mi dicono, ma cosa penserà di me il Signore, no? Ecco, questo ritornare a casa mi sembra davvero Don Leone un percorso nel quale poi tu ti senti dire o perlomeno permetti a te stesso di occupare quel giusto posto che la Divina Provvidenza appunto ha affidato a ciascuno di noi. Molto bello in questi 40 giorni, noi ripercorriamo anche i 40 anni del popolo di Israele, dalla terra della schiavitù alla terra della libertà, no? Ecco, questo popolo che torna a casa, torna a casa libero, torna a casa con un'identità, torna a casa con una terra che può chiamarla sua terra, torna a casa sentendosi veramente accompagnati da un Dio che non è antagonista all'uomo, ma che è alleato all'uomo, di un Dio che non cammina davanti, ma cammina a fianco. È bella questa immagine della rivelazione dell'Esodo, ma è bello il fatto di poter dire 40 giorni perché io possa dire a me stesso, ecco la prima opera di carità che dicevi, che valgo, che non sono qui per caso, che non sono un errore della natura, che invece sono un sogno di Dio e che se io sono qui è perché posso fare qualcosa di grande per me stesso, per gli altri, per Dio stesso e poi alla domanda quanto valgo per il Signore, no? Che posto ho io nella vita di Dio? Basta guardare al crocefisso e lì c'è la risposta firmata proprio dal Signore. Nella prima pagina della Bibbia c'è quella domanda, quell'espressione di Dio verso Adamo, uomo, Adamo, dove sei? Ecco l'Adamo che è in noi e il Signore che guarda ciascuno di noi dice dove sei, dove ti stai recando. Ecco credo che la Quaresima che punta appunto a guardare al crocefisso, alla Pasqua di morte e resurrezione del Signore, evidenzi proprio questa attenzione testarda di Dio che viene a domandarci, che viene a cercarci. Credo che ci sia dentro proprio il senso del cuore grande della misericordia di Dio che è quella che sollecita la nostra conversione. E in fondo viene a capire un pochettino tutta l'opera attraverso Gesù Cristo che Dio ha compiuto e continua a compiere sempre quell'immagine del Samaritano. Il primo e gran Samaritano è il Signore stesso verso di noi nella sua misericordia. E probabilmente allora Don Mauro è anche il fatto che se sperimentiamo questa misericordia, riusciamo ad avere carità verso di noi, nello stesso spirito e con la stessa visione, magari riusciamo ad avere carità anche verso gli altri, ad essere gente di misericordia che esercita magari quelle opere di misericordia corporali e spirituali che ci hanno insegnato e che tradotte anche nell'oggi sono delle realtà molto concrete. Anche perché saranno il giudizio della nostra vita, come ci dice il capitolo venticinquesimo di Matteo, quando Dio alla fine dei tempi misurerà la nostra vita proprio su questa. Una misericordia accolta in arrivo che possiamo poi effettivamente donare e distribuire anche agli altri. La gente che segue la messa fino del Monte Don Leone lo sa, ma ai piedi dell'altare per questa quaresima ho voluto mettere uno specchio, di modo che la gente che è nei banchi si specchia. Sullo specchio c'è lo slogan, vivere da fratelli, che è lo slogan della diocesi e ho fatto disegnare a un'amica su questo specchio il volto di Cristo, di modo che uno vede il volto di Cristo ma vede il proprio volto e vedendo il volto di Cristo vede anche il volto del fratello accanto. Ho voluto giocare con questo simbolo ma proprio per dire che il nostro amore per Dio o comunque l'amore che noi sentiamo di Dio nei nostri confronti non possiamo tenerlo per noi. Deve essere un qualcosa, un po' come il vaso di quella donna che racconta l'evangelista Giovanni che nel bel mezzo della cena si rompe e tutta la casa profuma appunto di quel lunguento. L'amore che io sento per me non posso tenerlo per me ma lo devo in un certo senso frantumare per essere attento ai fratelli, ma ai fratelli concreti. Dicevo alla mia gente su, a volte è davvero l'impressione che i fratelli andiamo a pensare a quali fratelli? I fratelli sono quelli che hai lì accanto, sono i fratelli che per carità di Dio possono bussare alla porta perché hanno fame, penso alle opere appunto di misericordia corporale, penso ai poveri, penso ai barboni, ma se incominciassimo a prenderci cura del fratello che abbiamo accanto, che anche lui ha fame, anche lui ha sete, magari si porta dei bei vestiti ma magari gli è stato portato via il vestito della sua dignità magari con un giudizio temerario, con una cattiveria. Ecco questo amore che diventa un po' un acrocio, no? Quando i bambini piccoli magari loro mi dicono, ma Don Mauro cosa vuol dire il signor della croce? Velocemente gli dico, vedi Dio è talmente grande ecco perché la mano va su e si chiama papà. Ma poi ci vuole talmente bene che si è fatto piccolino e è venuto giù nel suo figlio Gesù e poi ci ha regalato lo Spirito Santo perché dobbiamo imparare a voler bene a tutti. Mi sembra bella questa cosa qui ecco e penso che sia la concretizzazione di quello che il Signore ha voluto dirci. Poche ore prima di andare alla croce amatevi come io vi amo, ma dobbiamo farlo appunto con quei fratelli che abbiamo accanto. Proprio questo inizio quaresima, quei giorni degli esercizi spirituali come si chiamano, tutte le parrocchie in qualche forma fanno qualcosa di simile. È venuto tra gli altri a parlarci una suora che segue una comunità di ragazze che sono così in giro, bussano alla porta, vanno, vengono. È venuto il Don Davide Rota del patronato San Vincenzo, un'opera veramente grande della nostra diocesi. Ed è venuto poi Don Fausto Resmini, tanti lo conoscono, quello del capper della stazione di Bergamo, quello della comunità di Sorrisole per ragazzi problematici, quello cappellano del carcere. E ha fatto un'osservazione parlando proprio di questa misericordia verso i poveri. Il fatto intanto che facciamo fatica a riconoscere i veri poveri. Veri proprio perché non sono poveri solo nell'esteriorità ma dentro e magari i primi siamo noi. Ma è andato a parare sul fatto che forse c'è poca misericordia, poca capacità di conoscere e accogliere i poveri perché c'è poca eucaristia. Dico, pensa a te, questo che è dentro i mille trappole viene a parlarci del fatto che se si svuotano le chiese si svuota la carità. Proprio perché non si attinge all'eucarestia vi è meno tutta l'impalcatura della misericordia e della carità. Mi ha fatto impressione questa sua affermazione pensando anche a tanti anche cristiani che arrivano la domenica e con superficialità lasciano la messa o addirittura dicono non dà a messa, serve il poco, se non dà a messa. Ecco, mi ha fatto impressione questa affermazione del legame decisivo tra la vera però partecipata celebrazione dell'eucarestia e la vita che si fa aperta, che si fa comunione, che si fa servizio. Mi trovi pienamente d'accordo. Se l'eucarestia è partecipare al banchetto della vita e grazie alla vita di Gesù che si fa pane da mangiare e vino da bere noi possiamo conoscere di più il volto del padre. Capisci bene Don Leone che là dove io non vivo questa relazione intima grazie a Cristo e all'effusione dello spirito della vita del padre i figli diventano dei manichini. Noi ci pensiamo poco ma quando per esempio recitiamo il padre nostro e nell'eucarestia è la preghiera che ci butta proprio nel rito di comunione, noi chiamiamo Dio padre, il che vuol dire che è una tiritera che noi sentiamo parecchie volte ma non ci pensiamo magari tanto, il che vuol dire che se lui è padre noi siamo figli e quindi fratelli. Ma se noi questo volto del padre lo sporchiamo, se questo volto del padre non lo incontriamo, se non ci nutriamo di questo volto del padre capisco che il fratello che ha bisogno può diventare non un'occasione per me per sentirmi allo fratello ma può diventare davvero un sasso di inciampo nel mio cammino e quindi la fatica di riconoscere le povertà, anche la fatica anche solo di dialogare con alcune persone, di metterci in gioco, di mettersi in gioco con delle realtà che magari noi conosciamo gran poche, però veramente tutto parte da quell'incontro fatto di testa, soprattutto fatto di cuore, fatto di consapevolezza che nell'eucarestia diventa veramente l'incontro tra il cielo e la terra. Mangio l'eucarestia, vivo la comunione con Dio perché questa comunione io posso poi viverla con i fratelli che ho accanto. Mi domando in quali altri posti noi possiamo fare comunione con Dio? È vero che qualcuno dice non è poi tutto lì l'andare a messa, ma in quali altri momenti noi facciamo comunione con Dio? Quando noi possiamo mangiare la vita di Dio? Quando possiamo ascoltare una parola che magari a volte ci graffia il cuore ma che ci rimette in piedi? Quando possiamo veramente guardarci intorno e scoprirci dei fratelli, l'assemblea per esempio dominicale, dei fratelli bisognosi. Quando io guardo la mia gente, quanto mi piacerebbe a volte sedermi in mezzo a loro per dire che siamo tutti dei fratelli bisognosi, bisognosi di Dio e bisognosi gli uni degli altri. È vero, togliamo l'eucarestia, togliamo questo incontro con il Signore, togliamo il Padre Eterno e allora non ho più un fratello accanto a me, ma ho un qualcuno di cui devo difendermi e soprattutto di cui devo star nella larga. Si chiude con l'espressione di Gesù quando misurando la nostra vita, quella che è l'immagine del giudizio finale, venite benedetti del Padre mio. Sentirci dire venite benedetti e la benedizione non è solo di quell'ultima ora, ma è una benedizione che ci portiamo dentro già adesso, anche nelle fatiche, anche nella difficoltà del relazionarsi, dell'accoglierci, del perdonarci, dell'usare misericordia, non è sempre facile, ma lì siamo già benedetti del Signore e credo che questa sia la cosa più grande veramente che possiamo portarci ed è strada di sicura pace anche per noi. Andiamo a chiudere con un saluto a tutti, devo anche salutare alcune persone anche che ultimamente ho incontrato e che dicono grazie della trasmissione, complimenti per la rubrica Maneno Biscum eccetera. Io ringrazio voi che ci seguite, come ringrazio chi collabora in questa opera così semplice, ma che crediamo anche a modo suo significativa. Quest'oggi anche andando a chiudere dobbiamo fare gli auguri al nostro regista Riccardo che compie gli anni, compie gli anni proprio oggi, non possiamo dire quanti anche se non è una donna, ma non si dice, però è giovanissimo ancora. Lo ringraziamo anche del suo buon servizio e gli facciamo gli auguri appunto per questo suo compleanno. E a voi, con i grazi ovviamente a Don Mauro, a voi come sempre l'augurio di una buona domenica.